Il figlio di Cleopatra. Per secoli il suo mistero è stato custodito dalle sabbie del deserto. Il figlio di Cleopatra, il frutto di un grande amore, travolto dalle insidie del destino e dalla sanguinosa rivalità di due popoli. Il leggendario condottiero che aveva ereditato la superba bellezza della madre e l'invincibile forza del padre. Quale sangue scorre nelle mie vene? Voglio saperlo! Sei il figlio di Cesare e di Cleopatra. Sono El Kebir. Qual è la verità? Chi in mente? Qual è il mistero del figlio di Cleopatra? Che significa questo? Osservalo, fratello. Cesarione. Cesarione o El Kebir? La potenza di Roma o i miraggi del deserto? Per quale causa si batterà il figlio di Cleopatra? Molto sangue sarà versato e altro ancora ne verseremo tanto da arrossare la sabbia di tutto il deserto. Un popolo reso schiavo e perseguitato dalle bestiali prepotenze di un tiranno. Finalmente posso vederti in faccia El Kebir. La sua vita in cambio del mio potere. Cleopatra preferì la morte al mio giudizio. Le passioni più feroci. I desideri più sfrenati. Un mondo primitivo, crudele, violento sotto il torrido sole dell'Africa. Il figlio di Cleopatra. E da te possono dipendere molte cose. È un ricatto? È un avvertimento. Un misterioso sigillo. Una creatura da salvare. E dovunque il mortale agguato dei traditori. Un popolo intumulto accorre per salutare l'uomo che fa rinascere tutte le speranze. Che può liberarlo dalla schiavitù. Il galoppo dei cavalli del deserto chiama raccolta i coraggiosi e terrorizza l'odiato nemico. È la paura! La folle paura! Il figlio di Cleopatra. Nei luoghi stessi dove si è svolta, rivive oggi una delle più appassionanti, drammatiche e grandiose vicende della storia. Una sfida all'ultimo sangue. Una lotta senza esclusione di colpi. Terribili prove lo attendono. Gli amici vengono sterminati e la frusta colpisce senza pietà. L'amore di una donna può essere ambiguo come la spinge del deserto. Il figlio di Cleopatra. Com'è andata fratello? Tutto bene fratello. Il figlio di Cleopatra. Verso avventure sensazionali, strepitose, travolgenti. Il figlio di Cleopatra. Un appassionante mistero della storia finalmente svelato. Un film grandioso, autentico, entusiasmante. Il figlio di Cleopatra.